programmato a un certo orario ma qui con lo smartphone quindi da supporto smart non è semplice fare le live stream si possono avere diversi problemi comunque perché sto facendo questa live oggi qui questo stream su youtube per lasciare traccia di questo video oggi è sabato 18 dicembre 2021 siamo nel mezzo della nostra serra ora ve la faccio vedere siamo nel mezzo della nostra serra di pomodoro costoluto diciamo invernale questo è un trapianto di primi dicembre sono sconvolto c'è freddo c'è freddo fuori ho abbassato le finestre delle serre vedete siamo proprio in mezzo alla nostra serra questi sono 3000 metri quadrati di pomodoro costoluto innestato quindi piantine innestata bene perché stavo dicendo faccio questo video per farvi vedere benedetto ciao fa piacere che sei riuscito a partecipare vi faccio vedere che cosa sta succedendo ma prima una piccola premessa una piccola storia allora queste piantine me le hanno consegnate dicevo primi di novembre e chiedo scusa se c'è il rumore ma appunto c'è vento gelido di tramontana e il rumore ahimè non possiamo fare nulla mi hanno consegnato queste piantine già con la peronospora immaginate eravamo in ritardo con il trapianto mi hanno portato le piantine sono più di 4.000 piantine queste quasi 4.500 in realtà già con la peronospora che si vedeva in qualche foglia quindi io ho fatto delle scelte come dicevo in un altro live recente insomma ho scelto di trapiantare lo stesso poiché potevo perdere insomma la campagna dell'invernale se non si trovano le piantine così o comunque tutte queste piantine e allora ho trapiantato con i nostri trattamenti ricordo noi facciamo trattamenti biologici stiamo portando avanti la coltivazione come vedete bene non lo so ora ovviamente dalle live la risoluzione non è il massimo però si vede che sono in piena salute hanno 40 giorni di vita circa le piante stanno andando benissimo che cosa è successo ripeto con i nostri trattamenti preventivi qui più che altro siamo andati con dosi preventive dosaggi di prodotti no vi lascerò poi in descrizione i vari link alle playlist ai video dove parlo dei prodotti che utilizziamo ora concentriamoci qui abbiamo detto piantine già con la peronospora e l'abbiamo mantenuta benissimo senza forzare senza abusare di rame o qualsiasi altra sostanza parliamo sempre ripeto trattamenti biologici perché magari c'è qualcuno nuovo del canale e dice ma che produciamo naturalmente siete trattamenti su trattamenti sono trattamenti biologici con prodotti che non lasciano nessun tipo di residuo senza carenza vuol dire che si può trattare e poi andare a raccogliere ora qui non c'è niente da raccogliere vedete ancora le piantine sono piccole è successo che ahimè abbiamo la serra un po danneggiata il canale molto vecchio va sostituito ma non ci siamo arrivati e spero di farlo al più presto quindi questi questo periodo è stato molto piovoso ha piovuto per quasi due mesi di fila in pratica e quindi qui è entrata l'acqua piovana ha dirotto ora non siete ma fino a qualche giorno fa c'era il laghetto no quindi proprio l'acqua fuori usciva si vede comunque che è qui c'è la peronospora ovviamente si è sviluppata in maniera cioè c'è c'è la presenza di peronospora ma è curata se andiamo a vedere da vicino le piante è stata curata la peronospora perché non abbiamo la presenza della spora vedete non c'è quella classica se vogliamo polvere nera giusto stiamo parlando nel centro della serra vi ripeto siamo nel centro della nostra serra abbiamo qui presenza di peronospora anche quella pianta è stata contaminata ovviamente cadendo l'acqua qui fa ha fatto espandere la malattia in queste quattro piante praticamente tre piante sono un po anche questa è stata colpita guardate cioè in condizioni le condizioni sono molto pericolose perché c'è freddo considerate siamo con le minime a 6 gradi e massimi a 12 in questi giorni il tasso di umidità nella serra come sappiamo è sempre abbastanza elevato io direi che questo è un risultato eccezionale è un risultato eccezionale non le ho tolte le piante come sapete tutti chi ha un minimo di esperienza è consigliato prendere quando si trova una fogliolina di peronospora andarla a prendere e buttare via ora possiamo girare abbiamo visto qua come la situazione spero di quindi stavo dicendo di solito si consiglia quando c'è la e qui dietro la malattia qui dietro se quando c'è presenza di peronospora in qualsiasi coltivazione bisogna togliere le foglie i rami le piante malate andarle a bruciare via lontano seppellirle tutte queste cose noi le stiamo lasciando fino fino a quando possiamo va bene per vedere l'efficacia dei prodotti considerate appunto sono 40 giorni la peronospora era già nelle piantine scusate se ripeto ma è una cosa eclatante al mio avviso spero si sentirà bene quindi e le condizioni per chi ha esperienza di coltivazione di pomodoro in serra con queste condizioni climatiche c'è stata poca luce appunto perché è stato un periodo molto piovoso qui ha piovuto ha dirotto sopra le piante malate e siamo a questo livello praticamente dovrebbe essere tutta la sera contaminata dovrebbe essere la sera da estripare invece come vedete anche voi dietro di me anche adesso volevo dire le tutto il resto della coltivazione in ottimo stato in ottima salute sta facendo delle fioriture bellissime per il periodo considerate siamo in dicembre per questo lo sto facendo dal vivo questo video perché magari qualcuno vede i video dopo sei mesi un anno non riesce a capire l'importanza del clima siamo in inverno è il 18 dicembre fra tre giorni sarà inverno stiamo capendo giornate corte e tutto quello che c'è dietro noi ci mettiamo magari un po più giù vicino al sole e questo a riprova di quello che con il nostro metodo di trattamenti i risultati che si possono avere noi qui abbiamo trattato fin dall'inizio principalmente con il natural micro va bene mf per curare poi abbiamo fatto due passaggi solamente in tutto questi 40 giorni di uno col biorame 18 e uno col 20 bior ok e penso che continueremo adesso con un micro come fungicida poi va bene abbiamo aggiunto il tannino 20 l che aiuta fortifica rafforza l'effetto del natural micro che per chi non lo sapesse il natural micro è un fungicida battericida sempre biologico va bene contiene propoli da istrazione vegetale trattamenti bio senza sostanze chimiche sintetiche artificiali niente di tutto questo si può fare sono venute tante persone a guardare e in molti mi hanno detto a questo livello con nessun tipo di trattamento si potrebbe mantenere una situazione del genere sono venute diverse persone anche tecnici esperti e via dicendo altri colleghi più o meno esperti più o meno in grande quindi ci stiamo capendo sono risultati di altissimo livello va bene e io sempre cerco di fare vedere questi risultati appunto di presenza ora in questo caso ho avuto l'idea di farli vedere dal vivo perché è una cosa straordinaria la peronospora in questo in inverno insomma in questo periodo si diffonde rapidamente si diffonde a macchia d'olio in pochi giorni invece noi qui come state vedendo e avete visto fino a poco fa la coltivazione sta benissimo anzi ora in caso la vediamo un po più da vicino sta anzi gode di una salute eccezionale che vi devo dire di più ripeto ora vi faccio vedere contato finisco il discorso dei trattamenti abbiamo trattato fin dall'inizio con ermes natural micro tannino 20l bio micro care quindi sono 4 e basta e poi abbiamo fatto questi due trattamenti con il rame il rame perché il rame sarebbe quei prodotti a base di rame che ho detto poco fa ripeto vi lascerò in basso nella descrizione il link alla playlist dove ci sono tutti i prodotti per chi non li conoscesse così li potete un po andare a se siete curiosi di capire come funzionano cosa sono e cosa non sono il rame cosa a cosa serve in questo caso perché il bio micro care è curativo però il rame diciamo che ha un effetto maggiore sulla spora serve per non lo fare diffondere in tutta la coltivazione ripeto in serra c'è la cappa di umidità la pernospora viaggia rapidamente proprio nell'aria vola la spora capite quindi il rame la funzione del rame è quella principalmente di evitare di farla espandere ovviamente è anche curativo ma a dosaggi bassi stiamo parlando di il micro 3 ml litro e il rame l'abbiamo fatto 2 ml litro vabbè poi tutto il resto non mi sto a dire magari ve lo scrivo anche quello in descrizione i vari dosaggi che abbiamo utilizzato una volta a settimana quindi a dosaggi preventivi stiamo parlando l'abbiamo fatto abbiamo rischiato fatto appositamente questo lavoro per testare l'efficacia riprovare riconfermare perché noi comunque da molti anni che utilizziamo questo metodo e non solo da quest'anno c'è la nuova formulazione dei prodotti sono molto più efficaci e si vede e si vede non c'è nessuna presenza di muffe come la botride o la sclerotinia quest'anno zero in tutti i settori considerate in 15 mila metri quadrati di copertura non c'è un singolo fungo di muffa e questo è veramente eclatante come ecco poi c'è un'altra cosa da aggiungere ci sono varietà e varietà come mi diceva benedetto in alcune varietà è più difficile andare a trovare alcune malattie piuttosto che altre magari alcune sono più resistenti alla peronospora ma più soggette alle muffe questo pomodoro costoluto vi assicuro che è sensibilissimo a tutte le malattie soprattutto alla muffa alla botride perché alla muffa grigia volevo dire e qui siamo al non ce n'è zero tagliato completamente ora andiamo a vedere un po da vicino la coltivazione per il meglio che possiamo fare con la stream perché ahimè guardate qui le piante guardate le fioriture la foglia sembra finta sembrano piante ornamentali il fusto guardate il fusto quanto è grosso fino alla parte apicale guardate per capirci la salute è straordinaria sta continuando a fiorire in maniera ottima vistosa molto bene ci sono già i primi pomodori legati ora vediamo se riusciamo a beccarli queste macchie nelle foglie se non so se si vedono bene queste abbiamo aggiunto che lato di ferro nell'ultimo trattamento e il nemocid con sempre microelementi si vedono i pomodorini stanno iniziando i pomodorini a farsi vedere quindi penso che si capirà anche se il video è dal vivo e non è il massimo della della risoluzione della qualità si capisce che tutta la coltivazione sta benissimo sotto tutti i punti di vista e con la malattia nel centro della serra di nuovo e signori non lo so ditemi voi cosa ne pensate perché a mio avviso questo è un risultato micidiale micidiale si vedono le piante completamente qui colpite dalla peronospora perché immaginate sono rimaste bagnate di notte non è come al pieno campo pieno campo dice ma non piove a pieno campo allora cosa succede no però pieno campo c'è molta più aria non c'è l'ambiente protetto che l'umidità rimane sempre lì qui parliamo giorno e notte sono rimaste bagnate e così quasi non si può camminare qui è molto fangoso ancora c'era ripeto fino a due giorni fa c'era l'acqua che affiorava c'era il laghetto qui quindi sono rimaste a mollo pure anche a livello radicale immaginate che situazione che condizione morta ecco le piante accanto vedete sono ottime le piante accanto che toccano quelle malate normale dovrebbe essere qui tutto distrutto dalla peronospora va bene non lo so non so cosa vi devo dire di più io ripeto secondo me è un risultato eccezionale che non si può replicare con nessun trattamento convenzionale no è impossibile io sfido chiunque a farmi vedere una condizione simile trattata con trattamenti appunto fitosanitari come li volete chiamare voi che cosa vi devo dire di più poi anche tutta questa vitalità che hanno le piante è dovuta al fatto che utilizziamo l'ermes che è un bio stimolatore ok quindi un attivatore del metabolismo delle piante quindi la pianta settimana dopo settimana viene stimolata sia fogliare che il radicale viene stimolata per crescere sempre meglio queste qui sono delle piante che sono state stirpate erano in un'altra parte della serra e sono state trapiantate qui ormai sono trascorse penso più di una settimana dieci giorni guardate hanno i pomodori sono state stirpate si vede a terra è stato fatto proprio la fossa è stata messa l'acqua sono un po più indietro rispetto alle altre vedete quella ma è stata tolta la pianta malata queste erano affette da virosi abbiamo strippate e abbiamo messo queste piante ora vi faccio vedere dove erano queste piante perché lo abbiamo fatto questo lavoro e e qui grazie sempre ai trattamenti che andiamo a fare la pianta sta continuando ovviamente certo ha subito uno stress molto forte ma vediamo che addirittura ai pomodorini quindi più di questo che cosa vi devo dire non lo so fate voi niente abbiamo strippato delle piante perché abbiamo fatto delle modifiche alla struttura abbiamo fatto abbiamo fatto delle modifiche alla struttura per allargare l'entrata e praticamente erano delle modifiche impreviste quindi c'era già presente la coltivazione considerato questo loro l'abbiamo fatto la scorsa settimana e qui per salvare quelle piante che sarebbero state tagliate fuori dalla serra ma soprattutto schiacciate or qui c'è un via vai perché siamo all'entrata perché qui c'è sempre un via vai di gente ora vi faccio vedere siamo qui queste piante le abbiamo estirpate ormai belle grandi che so era dopo un mese d'altra pianto più o meno sono state estirpate quindi belle grandi quasi quasi con il secondo grappolo fuori che si vedeva eccoci qua allora qui vedete si vede che sono stati fatti dei lavori e qui c'è qualche pianta danneggiata perché giustamente lavori anche con scavato vedete questa pianta non ce l'ha fatta è stata spiaccicata è stata calpestata in pratica qui siamo nella parte di tramontana della serra ho abbassato le finestre perché c'è un vento gelido speriamo bene e quindi sono state estirpate da qui fra parentesi quando abbiamo fatto questi scavi vedete scavi profondi proprio per i pali della serra si vedevano le radici della pianta le radici erano sembravano alberi spettacolare una radicazione micidiale perché appunto queste queste sostanze che vengono utilizzate non solo sono bioattivatori quindi fanno anche da radicante ecco stimolano la radicazione mantengono la pianta sempre vigorosa quindi come ve lo devo spiegare non mi vengono le parole la pianta è sempre in grado di reagire bene ecco alle condizioni in cui viene alle difficoltà in cui si trova bellissimo basta va bene non facciamo la live troppo lunga perché sennò ovviamente questa la voglio lasciare deve rimanere e come prova di quello che stiamo facendo e facciamo da da anni e quindi vi saluto adesso mi sa vi saluto non voglio fare il video troppo lungo così magari c'è chi si scoraggia a guardare i video troppo lunghi spero che verrà visualizzato da più persone possibili condivideteli condividetele questi video dove mostriamo cosa facciamo e che si può fare si può fare l'agricoltura senza abusare di nessuna sostanza chimica di qualsiasi tipo ciao buon sabato anche a te quindi dicevo si può fare senza abusare di qualsiasi sostanza perché qui parliamo trattamenti molto leggeri sono trattamenti preventivi si va avanti lo stesso con scarsa esposizione luce solare con altissimi tassi di umidità con tante condizioni e temperature basse per il pomodoro il pomodoro sapete che ama il caldo ama il sole non lo so più di questo cosa vi devo dire vi devo dire che continuate a seguirci iscrivetevi al nostro canale siamo ovunque c'è il blog dove anche lì sto appunto troverete i vari trattamenti che facciamo sul blog li troverete e sto continuando a mettere delle schede consigli per la non solo per i trattamenti fogliari sia acquosi che polverosi anche per le concimazioni nelle varie coltivazioni ci sono c'è il canale su twitch quindi sempre produciamo naturalmente però su twitch seguite anche lì facciamo le live c'è l'appuntamento fisso settimanale il giovedì alle 21 e 15 e poi delle live random quando ho 10 minuti per farvi vedere qualcosa di interessante e basta picciotti produciamo naturalmente ovviamente siamo nei social facebook instagram telegram un mare di roba è stato un piacere essere qui con voi mostrarvi quello che facciamo il nostro lavoro e spero si sia passato il messaggio che si può fare l'agricoltura qui non siamo agricoltura micro agricoltura non siamo hobbistica livello professionale non siamo molto grandi come azienda ahimè perché no ahimè perché a me sinceramente non lo so se mi piacerebbe avere un'azienda agricola enorme perché mi piace valorizzare la singola pianta proprio come ho sempre detto va bene è stato bellissimo io vi auguro un buon weekend a tutti voi basta fate i bravi picciotti domani uscirà la live che abbiamo fatto uscirà qui sul canale youtube la live che abbiamo fatto su facebook con verdurazon per chi non lo conoscesse vuole conoscere gianfranco di verdurazon quindi vedere il volto di verdurazon andatelo andate a guardare la live domani mattina sarà qui dal vivo dal vivo sarà online su produciamo su youtube produciamo naturalmente ok basta 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 ciao a tutti ciao buon fine settimana come si fa a staccare ciao staccati